IPDIA.IT Ogni giorno migliaia di clienti cercano soluzioni di arredamento su IPDIA.IT IPDIA.IT La prima guida ai negozi d'arredamento di eccellenza. Su IPDIA.IT ogni giorno promozioni su mobili dal design internazionale, firme prestigiose e tutti i contatti dei migliori operatori italiani provincia per provincia. IPDIA.IT Il motore di ricerca di riferimento nell'arredamento d'eccellenza con i migliori arredatori in tutta Italia. IPDIA.IT